Ciao sono Luca di Mr.Gadget, sono pronto a presentarvi il nuovo OnePlus 7 Pro. Due modelli presentati per OnePlus nell'edizione inizio 2019, modello OnePlus 7 Pro, quello che ho nelle mie mani e poi la versione normale. Uno, il Pro in vendita praticamente subito, l'altro invece dei primi giorni di giugno. Uno, il modello 7 con un aspetto molto simile a quello del modello 6T ma con un sacco di tecnologia nuova all'interno, questo invece con un aspetto totalmente rinnovato. Dentro la scatola semplicemente il telefono, il caricabatterie Warp 30 e poi il cavo per la connessione dati e per la ricarica. Ma il telefono, com'è fatto? Ci sono diversi pilastri intorno a cui è costruito questo OnePlus 7 Pro e uno di questi è il display Fluid AMOLED, gigantesco, 6,67 pollici, QHD con il supporto all'HDR 10 Plus. Questo vuol dire che questo display è in grado di andare da 0,27 nits di luminosità minima fino a 4.000 nits di luminosità massima. Veramente incredibile. QHD Plus vuol dire definizione davvero superlativa che è così esagerata da aver ricevuto la classificazione di Display Mate con il massimo dei voti. Uno dei migliori display del mercato. Certificato anche da Netflix che renderà disponibili contenuti in HDR 4K anche per questo prodotto. E poi l'attenzione ai dettagli. Come detto, refresh rate fino a 90 Hz per rendere l'esperienza ancora più fluida ma soprattutto per rendere i giochi ancora più gradevoli. E poi altro dettaglio molto importante perché c'è la modalità Night 2.0 che permette di ridurre al minimo l'emissione di luce blu. E poi oltre a questo dal menu si accede facilmente una modalità lettura, la possibilità di avere il display in scale di grigio, di invertire addirittura i colori e poi di utilizzare anche un tema dark. Ecco l'altro pilastro su cui è costruito questo telefono. Tripla fotocamera, il sensore principale addirittura 48 megapixel e poi un grandangolo con un'apertura di 117 gradi e anche uno zoom 3x, uno zoom ottico 3x. Poi torneremo anche su questo dettaglio. Giro infine questo telefono per mostrare l'altro pilastro intorno a cui è costruito, cioè la pop-up cam. Vedete la fotocamera anteriore che per non disturbare il gigantesco display appare e scompare quando si deve scattare un selfie oppure quando si deve sbloccare il telefono. Guardiamo un po' da vicino dunque questo OnePlus 7 Pro che presenta come detto questo schermo gigantesco da 6,67 pollici, una struttura con schermo tra l'altro con i lati curvi. Rispetto ai modelli passati è stato spostato qua in basso il cassettino della SIM, uno dei due altoparlanti perché questo è un prodotto con audio stereo. Il connettore USB Type-C con lo standard 3.1 e poi un lato con il pulsante di accensione e il selettore che è abituale, quello a cui siamo abituati, il selettore di modalità per mettere suoneria, silenzioso e vibrazione. E poi da questa parte invece il controllo del volume che per noi sapete si chiama volume rock. Come detto tre fotocamere sul retro e poi insomma display completamente pulito invece nella parte frontale. Questo colore in particolare il nebula blu è qualche cosa di assolutamente superlativo. Ma come funziona il nuovo OnePlus? Allora è stato costruito intorno a diversi pilastri, tra questi vi segnalo la presenza dell'UFS 3.0. Questo vuol dire una memoria molto più veloce nello scrivere, nel leggere ma anche una memoria che consuma infinitamente di meno quando si tratta di trasferire le informazioni al telefono. UFS 3.0 quindi è una delle caratteristiche fondamentali perché questo è il primo telefono al mondo con questo dettaglio. Doveva arrivare il Galaxy Fold ma sappiamo che è stato rinviato. La RAM da 6 a 12 giga a seconda dei modelli. La memoria interna da 128 a 256 a seconda dei modelli. Ci sono 4000 mAh di batteria e questa è veramente una batteria che sembra non finire mai. Ci sono 10 livelli di raffreddamento. Questo perché questo è un telefono pensato anche e soprattutto per chi gioca e con i 10 livelli di raffreddamento. Questo vuol dire che il telefono rimane molto fresco anche quando si sta utilizzando un gioco con una richiesta grafica molto elevata e magari lo si sta in contemporanea. Anche ricaricato. Audio stereo del telefono. Sentiamolo immediatamente. Il volume è altissimo. La definizione dell'audio non è delle migliori ma il volume è veramente alto. Questo vuol dire tra l'altro che se utilizzate questo telefono per ascoltare musica magari così nei tempi anche di attesa o magari volete la riproduzione anche dell'audio direttamente dal telefono di un video che state guardando o di un gioco che state utilizzando la qualità è veramente eccellente. Audio in capsula ottimo. Ovviamente c'è il supporto dell'HD voice quello che gli operatori chiamano in modo molto diverso. Quando parlate tra operatori che hanno questo supporto la qualità della conversazione viene elevata. Ricezione direi più che buona e devo dire che dal punto di vista anche della resa del wifi mi sembra che la ricezione sia discreta. Non vi posso dare ancora fino in fondo questi dettagli con una certezza assoluta perché ho usato il telefono veramente troppo poco per poter avere delle certezze. Voglio però entrare per un attimo nel dettaglio del sistema operativo perché veramente OnePlus ha fatto un lavoro assolutamente eccellente. Ecco, guardiamola da vicino. OnePlus nel corso degli anni ha fatto un lavoro per rendere questo telefono vicino al menu stock ma con una serie di personalizzazioni davvero notevoli. Vi faccio notare ad esempio quella dell'accento del display che è una delle cose che sono secondo me molto interessanti. Avete un sacco di possibilità di personalizzazione ad esempio per la barra di navigazione. Potete scegliere cioè i pulsanti tradizionali qui sotto oppure le gestures come per me invece è più comodo. Gestures che quando il telefono è girato si usano semplicemente nello stesso modo ma in orizzontale. E poi la personalizzazione potete ad esempio scegliere qual è il colore dell'accento del telefono. Quindi io ho scelto il rosso ma avete modo di personalizzare come volete tutti questi dettagli del telefono. E poi la vibrazione aptica. È stata scelta una soluzione diversa per la vibrazione aptica e ha cambiato anche il motore di vibrazione. Peraltro la cosa curiosa è che potete scegliere anche personalmente come volete la vostra vibrazione. Peraltro con dei nomi tra cui scegliere che sono del tutto singolari. Quando date un occhio anche ai tasti e ai gesti avete la possibilità di inserire una serie di gesti rapidi. Questi sono tipici diciamo dei prodotti che arrivano dall'Oriente ma insomma tutto sommato sempre molto comodo. Di nuovo lo screenshot con tre dita, il capovolgimento per silenziare il telefono, l'avvicinamento del telefono all'orecchio per rispondere automaticamente e poi anche la possibilità di disegnare alcune lettere sul display. Alcune sono già assegnate, ad esempio quella della fotocamera, le altre invece la lettera S, la lettera M e la lettera V sono assegnate dalla vostra scelta. Poi avete la possibilità di scegliere anche che cosa succede con il pulsantino che avete nella parte esterna e avete davvero tantissime possibilità di gestione anche per quanto riguarda le doppie applicazioni. L'avvio veloce ad esempio con la pressione del pulsante, voi potete scegliere essenzialmente di premere a lungo nell'area del sensore delle impronte digitali per attivare l'assistente digitale oppure l'assistente di Google oppure una delle applicazioni che per voi sono preferite. E poi la blocker per chiudere le applicazioni, quindi rendere inaccessibile l'applicazione se non digitando un codice. Ah, vi faccio notare anche un'altra cosa, non è questo, il OnePlus Laboratory. Qui vengono proposte delle novità che magari sono sottoposte dalla community e che possono essere utili per l'utilizzo del telefono. In questo caso è il livello di oscuramento del display ambiente, però insomma diciamo che scegliete voi se trovate qualcosa di rilevante oppure no. Vorrei tornare sulla fotocamera per svariate ragioni. In primo luogo per farvi vedere un dettaglio del menu. Allora, qui avete la possibilità di scegliere tra gran angolo, fotocamera principale e lo zoom ottico 3x. Se voi vi spostate nelle modalità disponibili potrete notare che mancano alcune modalità. No, manca ad esempio, non so, il timelapse per farvi un esempio. Ecco, il menu vi permette o di fare questa scelta, cioè di fare uno swipe verso l'alto per accedere all'intero, al menu completo della fotocamera, oppure addirittura di personalizzare quello che volete compaia direttamente sul telefono. Questa è una delle migliaia di chicche, dico migliaia ma non sono migliaia, sono decine di chicche che trovate all'interno del telefono per averne un pieno controllo. E come funziona la fotocamera di questo telefono? Allora, vi mostro intanto l'effetto dello zoom, cosa vuol dire usare il grandangolo con la fotocamera grandangolare, quella cioè da 16 megapixel con apertura 2.2 con un angolo di visione di 117 gradi. Oppure passare alla fotocamera principale, quella da 48 megapixel che è stabilizzata sia elettronicamente che con stabilizzazione ottica che ha tra l'altro dei pixeloni giganteschi, perché sono dei pixeloni addirittura da 1,6 micrometri veramente con qualità ottima con apertura 1.6. E poi vedete qual è l'effetto invece dello zoom 3x, in questo caso avete una fotocamera da 8 megapixel stabilizzata otticamente con apertura 2.4. Se questa stessa fotocamera viene utilizzata in orario notturno, guardate quale scatti vi permette di fare. Peraltro, modalità che può essere utilizzata anche quella ritratto sia con la fotocamera anteriore che con la fotocamera posteriore, con dei risultati che sono veramente ottimi. Ho qualche perplessità in più invece sui video. Devo dire che su questo OnePlus deve fare una ottimizzazione perché se guardate le immagini che vedete in questo momento vedete tanto quanto la fotocamera principale, la fotocamera posteriore, quanto quella anteriore, offrono questo effetto strano per cui la stabilizzazione inserisce una sorta di vibrazione nelle immagini. Devo dire che su questo aspetto OnePlus 7 Pro non è sicuramente il meglio oggi disponibile sul mercato. Dobbiamo parlare di gaming perché OnePlus insieme a Fanatic ha messo insieme un sistema di gioco con diciamo Run Boost, con l'ottimizzazione del Do Not Disturb nel momento in cui state utilizzando un videogioco, con come detto un sistema di raffreddamento ancora migliore, con un motore per la vibrazione aptica ancora più sensibile. Davvero la modalità gaming è stata curata fino all'ultimo dettaglio. E poi ripeto anche il particolare, con il display Fluid AMOLED combinato con i 90 Hz di refresh, con la definizione QHD+, vi dà davvero un telefono che ha una qualità, anche se vi piace utilizzare il gaming, davvero superlativa. E OnePlus garantisce tra l'altro il fatto che grazie alla ricarica Warp 30 con il sistema di raffreddamento a 10 livelli, il telefono rimarrà sempre a temperatura del tutto controllata. Abbiamo accennato a batteria ricarica, questo telefono non ha al suo interno la ricarica wireless, ma Warp 30 questo vuol dire che la velocità di ricarica è davvero elevatissima, vi bastano 20 minuti per avere praticamente un'intera giornata quasi di lavoro garantita. Allora, conclusione, un telefono costruito intorno al display, alla pop-up cam, alla qualità della tripla fotocamera posteriore e al fatto che sono stati introdotti una serie di novità dal punto di vista della gestione del calore, la capacità di gestire l'efficienza anche del potentissimo processore Snapdragon 855, che lo fanno forse uno dei prodotti più potenti del mercato. Display quindi di qualità superlativa, batteria che sembra non finire mai, OnePlus 7 Pro è vero, costa un po' di più, ma secondo me ne vale veramente, veramente la pena. Grazie per la visione!